Sì, ma a una situazione drammatica del Paese c'è stata una risposta straordinaria del popolo, dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati, di tanti giovani, tanti precari. E questo è un segno positivo, perché significa che c'è un Paese che vuole reagire e non pensa di doversi rassegnare a questa condizione. Se ogni divisione la mette insieme tante persone così, allora evidentemente ci sa un'idea diversa della divisione. Io penso che fosse giusto in questo momento che le persone oneste di questo Paese e quelle che lavorano, quelle che hanno portato il peso della crisi fino adesso, dicessero che è giusto che anche qualcun altro concorra a risollevare le sorti del Paese.